Sono iniziati i lavori per la Casa di Comunità Gela con un investimento di 1,65 milioni di euro che sarà pronta entro novembre 2025. La struttura offrirà un'assistenza sanitaria più inclusiva, in particolare per soggetti fragili e pazienti cronici. Contemporaneamente è in corso un ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie di Gela con un investimento di 6,65 milioni di euro. Sono già stati installati nuovi ecotomografi e un mammografo e sono previsti due nuovi acceleratori lineari per la radioterapia, un tomografo a risonanza magnetica e sistemi radiologici fissi.